Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. 39 favorevoli, 243 contrari. La Camera respinge. Votazione dell'articolo 13. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Occhiuto. Pilozzi. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 348 favorevoli, nessuno contrario. La Camera approva. Andiamo agli aggiuntivi. 13.01 Caparini. Parere contrario. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Fitzgerald. Qualcun altro? Galperti. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 42 favorevoli, 224 contrari. La Camera respinge. 13.014 Dinka. Parere contrarie. Non ci sono interventi. Terzoni. Prego. Lo ritiriamo e presentiamo ordine del giorno. Grazie. 13.04, 028 e 056. Identici. Pareri sono contrari. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Qualcuno? Qualcuno riesce a votare? De Maria. Bolognesi. Rondini. Latronico. Latronico. Dilello. Dilello. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 61 favorevoli, 223 contrari. La Camera respinge. 13.061 Parere contrarie. Commissione e Governo. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione.